Oggi molti affermano di essere sostenibili. Noi di Flydera, invece, ci concentriamo sul fare davvero qualcosa di concreto. Con prodotti come Organic Board, che è composto in gran parte di legno riciclato e colla organica Organic Glue, possiamo creare spazi sani e rispettosi dell'ambiente. Si tratta della prima gamma di prodotti completa a ricevere la certificazione Blaua Engel. Inoltre, molti dei nostri prodotti sono certificati cradle to cradle. Già oggi veniamo riconosciuti da Sustainalytics come ESG Top Performer e con lo status gold di Ecovadis facciamo parte del 4% delle aziende più sostenibili in assoluto a livello mondiale. Puntiamo sistematicamente sul riciclaggio e sulla gestione a cascata delle materie prime, oltre che su materiali concepiti per proteggere la biodiversità e ottimizzare l'impatto ecologico della nostra produzione attraverso l'uso di energie rinnovabili e alte percentuali di riciclaggio. Documentiamo nel dettaglio questa e molte altre tematiche nel nostro rapporto annuale sulla sostenibilità. Sappiamo che c'è ancora molto da fare prima che i mobili e le costruzioni in legno siano completamente innocui dal punto di vista climatico. Per noi è chiaro che con grande impegno daremo un contributo decisivo. Tutto ciò che facciamo si basa sul nostro motto We work for our vision perché noi siamo naturalmente sostenibili.